Anche qualche citazione addirittura di Miglio, Cattaneo, però questo deve fare il segretario nazionale, occuparsi di organizzazione, non suscitare polemiche o alimentare polemiche, divisioni, ma darsi da fare, rimboccarsi le maniche e occuparsi del territorio, perché se no tutti si mettono a fare le grandi strategie politiche e poi i militanti e le sezioni sono abbandonate a se stesse. Mi è piaciuto molto il suo intervento e se diventerà segretario nazionale, come io mi auguro, sono certo che da domani la Lega può ripartire.